Si è svolta domenica 13 novembre al Conservatorio di Torino la cerimonia di consegna delle medaglie della liberazione conferite con decreto del Ministro della Difesa a 174 residenti in provincia di Torino. L'iniziativa, nata in occasione del settantesimo anniversario della guerra di liberazione e della resistenza, vuole riconoscere l'impegno e il sacrificio di quanti si batterono per i principi di libertà e indipendenza sui quali si fondano la Repubblica e la Costituzione e diffondere tra le nuove generazioni l'importanza del passato, dei sacrifici che sono stati fatti per dare un nuovo futuro al Paese. L'appuntamento di Torino è il primo di quattro momenti promossi dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale in collaborazione con la Prefettura di Torino che vedrà più di 400 persone insignite della medaglia. Una giornata speciale per chi ha combattuto per la libertà e la democrazia nel nostro Paese. Finalmente il Ministro della Difesa ha distribuito, 70 anni dopo, il sigillo. È un giorno veramente che abbiamo dovuto aspettare per anni e anni. Siamo felici di questo avvenimento.